Anno 2000. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite fissa gli obiettivi di sviluppo nel millennio allo scopo di migliorare a livello globale entro il 2015 le condizioni di vita dei bambini nei paesi in via di sviluppo, riducendo il divario esistente tra nord e sud del mondo. Anno 2009. Si apre la riflessione sul settimo obiettivo, assicurare la sostenibilità ambientale. La classe seconda F del liceo scientifico Galileo Galilei è impegnata in un percorso informativo, formativo, legge il mondo al fine del mondo, porto di mare, buono, pulito e giusto, discute in classe e approfondisce il problema dello sviluppo sostenibile e, in particolare, come farà il mondo a produrre il cibo di cui avrà sempre più bisogno, visto il continuamento demografico, senza distruggere quel capitale di terra fertile e acqua indispensabile a qualsiasi sviluppo? Noi rispondiamo. Sederà l'agricoltura biologica, quella cioè che sta attenta alla salute del terreno e dell'ecosistema di cui fa parte. E abbiamo potuto verificare sul campo un esempio di tale scelta, Gaia. A Presina è nata una nuova e fiorenta azienda di agricoltura biologica, Gaia, che prevede una coltivazione a basso impatto ambientale, utilizzando tecniche innovative. Differenziarsi è obbligatorio per poter entrare meglio nel mercato, per differenziarsi sul mercato. Tuttavia il biologico è comunque anche un approccio, direi un po' filosofico insomma a modo di produrre, è quantomeno un segnale di cambiamento, che vuole cambiare un modo di produrre che non pare più sostenibile, quantomeno come inquinamento delle falde o comunque del terreno, ma anche come danni alla salute che possono eventualmente ricadere sui consumatori. Diciamo che fare qualcosa per l'ambiente è sempre stata un'esigenza personalmente mia e probabilmente ereditata anche dai dettami educativi di mio papà, insomma, perché appunto, essendo mio padre, ci siamo visti finché crescevo e questa cosa, questo approccio quindi con un ambiente un po' più sostenibile, quantomeno come segno, come segnale, per fare qualcosa, perché per dire una frase a me molto cara, per lasciare il mondo un po' migliore di come l'hai trovato e non basta lasciarlo come era, ma la speranza è quello di lasciarlo anche un pochino migliore. L'azienda, diciamo come SAT, si chiama così, c'è la superficie agricola totale, è di due ettari e sette di proprietà. In realtà noi coltiviamo due ettari, mezzo ettaro più o meno di serre e un ettaro e mezzo a pieno campo. E poi abbiamo in affitto un piccolo, un 1500 metri quadrati in centro a Piazzola, diciamo per la terra di mio zio, dove abbiamo un piccolo frutteto, lo stesso, di 800 metri quadrati e una sparagiaia che andrà in produzione quest'anno di altri 700-800 metri quadrati, questo un po' per ampliare la gamma e un po' perché è capitata l'occasione, insomma, di un zio che non aveva più passione di stare lì e anche perché gli sparagi non c'erano, è un prodotto interessante ed è un prodotto che viene in questo momento ancora ben riconosciuto, ben percepito insomma dai consumatori e quindi ben pagato. Qui abbiamo un po' di cliente diretto, come vendita diretta, che vengono direttamente fu in spaccio. Sempre come vendita diretta, quindi direttamente al consumatore, abbiamo dei gruppi di acquisto con dei punti di corrimento, uno studio di commercialisti, piuttosto che una casa privata con un garage, piuttosto che la rampa del biologico, così l'ho chiamata la consegna che facciamo ogni martedì sera a Venezia, proprio alla fine della Ponte della Libertà, a Piazza della Roma. Poi abbiamo alcuni ristoratori che sentono, non tanto per il biologico, ma forse perché è particolarmente fresco, perché è tagliato 3-4 ore prima della consegna, quindi un prodotto commercialmente molto, molto difficile da reperire, se non direttamente in azienda. E poi abbiamo i canali degrossiste, insomma il mercato di Padova, quindi la cooperativa agricola del Tamiso, che è l'unica cooperativa, e forse una delle poche in Italia, che trattano soltanto il prodotto dell'agricoltura biologica certificata. Da un certo punto di vista c'è attenzione verso l'agricoltura di qualità. Di qualità intendo quella certificata e marchiata DOP, ICG, quindi denominazioni legate a un territorio o a un prodotto legato al territorio. Ecco, sul biologico, diciamo, come tecnica di produzione rispettosa dell'ambiente, non è che ci sia una particolare attenzione, però è anche vero che in realtà tutto quanto quello che c'è qua è stato sicuramente cofinanziato dalla regione e quindi dall'Europa. Economico noi siamo contenti perché siamo in crescita, tuttavia la strada ancora è abbastanza lunga da fare. Mentre per quanto riguarda la parte morale, insomma, comunque etica, sicuramente stiamo facendo, pagando nel prezzo, perché la svegli, piuttosto che dei giorni lavoriamo anche 20-20 ore di fila, insomma, perché se bisogna fare dei lavori oggi qui, nel biologico, si può derogare ancora meno che nel convenzionale. Dicevamo però dal punto di vista etico sicuramente siamo contenti perché è un lavoro che ci siamo scelti e che stiamo facendo e plasmando la nostra immagine, insomma. Si conclude così la nostra esperienza nell'azienda biologica, ricordando che dal diamante non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Grazie. 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 Grazie.